Nel Maderet della 35esima giornata della serie B-Win si sfidano le ambizioni di promozione diretta dell'Atalanta e le speranze play-off del Modena che dopo tre minuti si presenta così con il sinistro di Giuseppe Greco ispirato da Cristian Pasquato brivido per consigli sulle fasce che la squadra di Bergodi costruisce le occasioni migliori Manfredini provvidenziale su Greco, poi arriva Giampà di gran carriera, non un granché però la conclusione del centrocampista Bergodi da indicazioni ma è soddisfatto dell'atteggiamento della sua squadra, fatica invece a costruire gioco l'Atalanta, orfana anche di Tiribocchi qui apre ruopolo per Ferreira Pinto, il gol è irregolare al 29esimo per la posizione di fuorigioco del brasiliano piuttosto fuori partita e poco cercato peraltro da parte di Padoin e Carmona, più compassati rispetto alle ultime uscite il Modena gioca bene a cavallo tra ventesimo e venticinquesimo, Pasquato e Mazzarani però faticano a inventare qualcosa il prodotto Scuola Juve ci deve provare da quasi 30 metri, consigli però controlla con lo sguardo il primo tempo sicuro è col calcio di punizione di Cristiano Adoni alto sopra la traversa il capitano dell'Atalanta un po' sotto tono con il suo movimento però sempre a dar fastidio fra le linee nella ripresa la partita si accende anche perché gli scuola avevano speso tantissimo a livello di concentrazione a livello psicologico nel primo tempo e allora ci pensa Ciccioropolo al 47esimo dopo la sponda di Adoni a inventarsi lo Scorpione, il settimo gol in campionato per l'ex attaccante dell'Albino Leffe una magia per illuminare la serata del Braglia proprio sotto lo spicchio dei tifosi Nerazzurri Ruopolo che faceva coppia con Ceravolo visto l'assenza di Mari Lungo e Tiri Bocchi lasciati a casa da Colantonio per problemi fisici l'Atalanta a questo punto vuole spingere sull'acceleratore e chiudere i contici prova Ferreira Pinto, pallone troppo morbido però è controllato da Guardalben il primo cambio azzeccato da parte di Bergodi perché entra Signori al posto di Tamburini e diventerà subito uomo decisivo qui Pasquato lavora benissimo il pallone sulla tre quarti un rimpallo di Peluso spiana la strada proprio a Francesco Signori tocco dolcissimo sotto misura terzo centro in campionato per il 22enne milanese tutta la gioia di Cristiano Bergodi autore di un autentico miracolo in questa stagione alla guida del Modena un po' sfortunata la difesa dell'Atalanta ventitresimo gol subito in 35 giornate da parte degli uomini di Colantuono ma le grandi squadre riescono a colpire anche nelle giornate e nelle serate di difficoltà Ferreira Pinto qui sfiora il 2-1 dopo la deviazione di Perna e poi l'altro cambio decisivo questa volta di Colantuono fuori Ruopolo e dentro Sasa Bielanovic minuto 88, palla in verticale l'assist meraviglioso di Buonaventura per il taglio di Bielanovic che anticipa l'uscita di Guardalben primo centro in campionato per l'attaccata arrivato dal Cluj un gol che significa mattone sulla promozione diretta in Serie A davvero splendido l'Atalanta scavalca di nuovo il Siena in classifica e allunga a 18 la striscia di partite senza sconfitte con il Modena che ci prova nel finale consigli blinda il risultato decisivo al Braia sulla zuccata di Aguragà l'Atalanta continua nella sua cavalcata verso il ritorno in Serie A grazie